ciao ragazzi bentornati sul canale tutto tech oggi andiamo a vedere una funzione del nostro dispositivo vocale che va per il sociale quindi da oggi fino al 29 novembre ci sarà la possibilità di avere un aiuto concreto per l'argomento della violenza sulle donne perché il nostro dispositivo vocale con la dottoressa andreoli ha voluto dare una guida per rendere molto più sensibile le persone su questo argomento e quale miglior modo visto che il nostro dispositivo vocale ormai è dislocato in quasi tutte le case d'italia se non appunto utilizzare il nostro dispositivo vocale ci farà ci darà informazioni su come riconoscere la violenza come riconoscere quella volenza un po più subdola perché a volte non è soltanto la violenza fisica a danneggiare una donna o comunque una persona perché si parla anche di violenza su sul genere e quindi come riconoscere tutto questo e come poter essere aiutati per avere un supporto e avere qualcuno con il quale dialogare dopodiché ci sono dei numeri preposti per poter raccogliere queste denunce ma nel frattempo tante persone purtroppo non si accorgono di che cosa avviene quotidianamente e quindi grazie a questa collaborazione avremo dati in più per poter riconoscere questi eventi l'attivazione avviene semplicemente dicendo rompi il silenzio sì rompiamo il silenzio sulla violenza contro le donne per riuscire in questo arduo compito ho invitato nel mio cloud un'esperta in materia lascio la parola alla dottoressa andreoli eccomi anche oggi provo a darti una mano perché hai proprio ragione per rompere il silenzio a proposito di violenza occorrono coraggio e audacia di pensiero perché la questione complessa e va presa più che mai sul serio e così credo che sia utile metterci d'accordo sulla definizione del suo esatto contrario sto parlando dell'amore c'è infatti chi dice che il contrario dell'amore sia l'odio qualcun altro che sia l'indifferenza no in realtà il contrario dell'amore è proprio la violenza vuoi ascoltare un'altra risposta della dottoressa un dato allarmante diramato dall'istat dice che in italia il 31,5 per cento delle donne comprese tra i 16 e 70 anni hanno subito una violenza che può essere di vario genere come dicevamo prima e quindi la dottoressa una volta che gli è stata offerta la possibilità di poter collaborare con il nostro assistente vocale ha colto immediatamente la palla al balzo in modo tale da poter entrare nelle case degli italiani e anche dove c'è una normalità a volte apparente a volte reale re far rendere conto le persone che determinati atteggiamenti parole o anche semplicemente un modo di scherzare piuttosto che potrebbe essere dannoso per l'altra persona ora sto parlando in maniera un po più generica perché a volte diciamo cose o facciamo cose che possono far male alle altre persone e non ce ne accorgiamo neanche quindi la cosa ottimale è avere consapevolezza dei propri gesti e delle proprie parole soprattutto perché a volte sembra una banalità ma le parole fanno più male dei dei gesti anche se comunque vanno entrambi condannati quindi questo è un invito per tutte quelle persone che si sentono vessate che si sentono comunque sotto pressione che comunque subiscono violenze mentali verbali fisiche a poter dargli un una possibilità e vedere di capire insieme al nostro assistente vocale e all'ausilio della dottoressa in che modo si può avvenire fuori da queste situazioni sicuramente la denuncia è uno di questi ma ci vuole molto coraggio come diceva prima quindi ragazzi io spero che questo video possa essere utile a tante tante persone e spero che voi che guardate questo video abbiate la possibilità di diffondere questa possibilità e dare una speranza in più a tutte quelle persone che subiscono quotidianamente violenze di vario tipo bene ragazzi io spero di essere stato utile e ci vediamo al prossimo video ciao